La mia biblioteca È possibile accedere ai volumi della mia biblioteca mediante la ricerca generale effettuata in Leggi d'Italia Pubblica Amministrazione. Digitiamo ad esempio la parola IMU ed avviamo la ricerca. Il tab La mia biblioteca riporta il numero di risultati trovati in archivio. Selezionando la linguetta si accederà direttamente al servizio. La ricerca viene effettuata in automatico sui volumi acquistati. Il tipo di documento selezionato per definizione sarà I miei volumi. Selezionando l'opzione Altri volumi, la ricerca si estende a tutti i contenuti della mia biblioteca, compresi i titoli non acquistati. Per questi ultimi, che appaiono su spondo grigio, è comunque possibile visualizzare il sommario ed i riferimenti bibliografici. Consultiamo ora la lista dei titoli in abbonamento. Nell'elenco compaiono, a sinistra, le immagini delle copertine, la classificazione per argomento, i titoli e i riferimenti bibliografici dei singoli volumi. Nella lista dei risultati è possibile Archiviare la ricerca generale, comprendente anche i risultati contenuti nella mia biblioteca. Archiviare un volume od una lista di volumi selezionati dei risultati. Stampare la lista dei volumi selezionati. Cliccando sulla copertina o sul titolo del capitolo di uno dei volumi della lista, si accederà alla pagina del libro che contiene la prima occorrenza. All'interno del documento analizzato, che mantiene la stessa impaginazione del volume in formato cartaceo, è sempre evidenziata la parola cercata. Sulle singole pagine del libro è possibile Scorrere per mezzo delle frecce il numero delle occorrenze trovate all'interno del volume in esame. Ingrandire e ridurre il corpo del carattere per facilitare la lettura. Vedere la pagina a schermo intero. Raffinare la ricerca all'interno di tutto il volume e digitando altre parole. Inserire un'annotazione e stampare la singola pagina. Sfogliare il volume. Sulla sinistra, inoltre, è possibile navigare all'interno dell'indice del volume, selezionando velocemente il capitolo di interesse. Dal documento in consultazione, è sempre possibile avviare una nuova ricerca utilizzando differenti modalità. La maschera di ricerca semplice consente di effettuare una ricerca per parole chiave. La maschera di ricerca avanzata consente sia di effettuare la classica ricerca testuale, sia di cercare un libro per autore, per editore, per anno di pubblicazione, per classificazione e per codice ISBN. Inoltre, è possibile definire l'ambito all'interno del quale indirizzare la ricerca, indice, titolo o intera pubblicazione. Con il pulsante Cerca si avvia la ricerca. Con il pulsante Pulisci si può di nuovo interrogare il sistema. Nella sezione Il tuo archivio, situata nella barra degli strumenti, saranno reperibili i documenti e le ricerche archiviate, nonché i documenti annotati. È inoltre possibile accedere direttamente al servizio La mia biblioteca attraverso il pulsante presente sulla barra di navigazione, o in alternativa, mediante il pulsante presente nella sezione Servizi, posta sulla destra dell'home page di Leggi d'Italia pubblica amministrazione.